Buonasera a tutti, io sono molto grata a signora Sabine Frommel e a signor Antonio Bruculeri e anche a Paola Roletta che ha fatto questa traduzione del testo che io vado a lire e anche devo domandare scusa per il mio italiano, però farò il possibile per essere chiara. Allora, la mia missione è parlare sobre la situazione di Portugale in questa epoca. E allora, nella seconda metà dell'Ottocento, le pressioni esercitate in Portogallo sulle questioni relative alla costruzione della pratica identitaria non si discostano sostanzialmente dalla complessa realtà altra frontiera. Anche in Portogallo, per capire la rete multipla delle interferenze che si verificano durante l'Ottocento, bisogna retrocedere nel tempo per cercare le trasi di Cioe che ha determinato le correnti del pensiero. Bisogna riandare al secolo XVIII, a Kant, e al concetto di Aufklärung, e alle posizioni degli intellettuali del secolo XIX, che, intaccando i livelli di predominio del sacro, imposerò alla società il predominio della ragione. Inoltre, cresceva anche per l'influenza della masoneria, nella costruzione di un ideale di perfettibilità che incontrò adetti a Quimbra, si rafforzarono i valori scientifici e pedagogici eredi del secolo XVIII e delle correnti del positivismo scientista. Il patrimonio culturale, strumento imprescindibile per la formazione ed educazione dei popoli, acquisisce allora un ruolo rilevante al quale né il potere né la società civile o religiosa potevano sfuggire. Le preoccupazioni per un'attività di tutela più ampia, che si erano già manifestate nella prima metà del Settecento e avevano trovato eco nelle pratiche del collezionismo, portò l'attenzione verso il mondo naturale e le nuove potenzialità scientifiche. Ma le questioni pertinenti al patrimonio e alla rispettiva performance educativa saranno canalizzate verso i beni immobili. Il monumento nazionale, vera invenzione dell'Ottocento, declinerà la giusta origine del monumento storico, ossia rivendicando per sé certi edifici con il protagonismo dei complessi medievali una carica che rifletteva memoria storica con la conseguente missione pedagogica diretta verso le glorie nazionali. Mentre si indagava il potere creativo, civile e formativo delle pietre che parlano, con il sostegno attivo dello scientismo positivista, si apriva il cammino al sondaggio della specifica natura degli stili. L'impolso dato alla causa del Manuelino guadagnava negli anni 40 del secolo XIX un successo le cui ecco si fanno sentire ancora oggi. Ora, compresso come etapa di transizione tra il gotico e il rinascimento, in una lettura evoluzionista con gli inevitabili presupposti della decadenza, galvanizzando le vecchie teorie vasariane, ora proiettato a un livello di carattere nazionale per eccellenza, l'energia plastica del regno di Manuel permisse di battere la bandiera di stile autonomo e ancora costituirsi come l'immagine più veritiera dell'epoca gloriosa del Portogallo delle scoperte. Nell'ultimo quarto dell'Ottocento finalmente prenderà a corpo la volontà di investire sui complessi patrimoniali che vanno oltre l'edificato e l'epoca medievale. La questione legata all'insegnamento e alla formazione artistica acquisisce un statuto di necessità urgente alla quale dava seguito la cultura del restauro. Basta appena citare i grandi interventi avvenuti lungo il corso dell'Ottocento sui castelli, sui monasteri di battaglia, la torre di Belen, il monastero di Geronimus, le cattedrali di Guarda, Lisbona, Quimbra e Levura o il monastero di Alcubasa per capire che sono queste le icone della nazione orientate verso il Medioevo e il periodo manuelino che meritano attenzione da parte dei poteri e degli intellettuali attivi che ne promuovevano la classificazione. Al sorgere di una cultura del patrimonio la conoscenza fragmentata e ideologicamente manipolata si costituisse come sostegno alle grandi questioni di identità nazionale è sempre di più un strumento adeguato e indispensabile tanto alla giustificazione e alla classificazione degli immobili quanto alla credibilità dell'intervento. L'appello all'inventariazione sempre sottomessa allo stile e il ricorso alla fotografia e all'incisione guadagnano una dimensione formativa e un'utilità che è giunta in colume fino ai lavori scientifici contemporanei. L'insegnamento artistico assumerà un'innevibilità consacrata in strumento operativo con efficacia legalizzata con la creazione delle accademie dei begli arti di Lisbona e Porto. Erede di una visione pratica eco di un tempo lontano le discipline insegnate si orientavano al sapere fare più che al sapere vedere. L'esperienza formativa di Quimbra è particolarmente interessante per la compreazione del processo che consacrerà il protagonismo del gusto revivalista del neo-rinascimento. Con l'inizio del funzionamento della scuola Livre des Arts du Zegno sotto l'orientamento di Antonio Augusto Gonçalves si erano create le condizioni per l'effettiva educazione pratica di un contingente di scalpelini ed ebanisti che garantivano gli ambienti del restauro e della costruzione nuova fino al fine degli anni 30 del secolo XX. Intorno alla specificità di Quimbra e di Mestre Gonçalves che sarà il primo direttore del Museo Machado de Castro si riunirano tutte le condizioni e gli uomini che dovranno formalizzare una cultura estetica senza paragone nelle altre zone del paese. Come in nessuna e nessun'altra città portoghese Quimbra fu palco di sperimentazione umanista che fin dall'inizio del Cinquecento si tradusse nella captazione dei formulari italiani per le questioni relative allo spazio e alle forme del rinascimento soprattutto per mano degli scultori architetti francesi che arrivarono in città ancora nel periodo manuelino. La costruzione di questo protagonismo si deve fondamentalmente a tre situazioni ben distinte. La presenza nella regione della cosiddetta pedra di Ansan pietra calcaria, docile e facile da lavorare che fece la fortuna del lavoro scultorio durante tutto il Medioevo. L'attività riformista del monastero di Santa Croce e finalmente la presenza dell'università trasferita definitivamente da Lisbona. La natura della pietra e la realizzazione dei cantieri politicamente più rilevante saranno decisiva nello sviluppo delle officine che a partire da Quimbra finiranno per sopperire alle necessità di richieste in tutto il paese. Sia per il lavoro della scultura avulsa sia per le strutture dei rettabili le palle di altare in pietra Quimbra si impose nel panorama cultural del Rinascimento in Portogallo formalizzò l'efficacia dello statuto dello scultore e architetto e imprese un marchio nella decorazione che si rifaceva alla delicatezza dell'ornato del primo Rinascimento. Nicolaus Centren e Jean de Rouen entrambi normanni e entrambi portatori di una formazione italianizzante acquisita nella zona di Rouen e forse nella valle della Loira ebbero qui un ruolo cruciale nella maturazione di quel gusto che rimarrà legato per sempre all'immagine di Quimbra. Il primo provò nel monasterio di Geronimus una maniera di esecuzione che portò a Quimbra a proposito della costruzione del tumulo dei re opera di rilevante significato politico e ideologico del reino di Emanuele. Presto sarebbe uscito da Quimbra in cerca di altri appoggi messenatici e altri materiali come l'alabastro che porta da Saragossa e il marmo che lavora a Evora dove si perdono le sue trasse. Jean de Rouen rimane a Quimbra dove monta l'officina attiva durante 50 anni ed ha la sua officina che escono tutti gli ingredienti scultori che alimentano quel gusto nazionale considerato valido e anche il marchio della specificità di Quimbra. questa lunga esperienza trascinerà il tutto il tutto il secolo il seicento una cultura della decorazione ancora legata ai formulari del cinquecento contrastando la tendenza generalizzata nel paese che aderisca già dalla metà del cinquecento al plain style nell'espressione dello storico americano George Kubler e alla sobrietà della decorazione in architettura Quimbra mantiene la forza espressiva dell'ornamento nel gioco relazionale con l'architettura in articolazione con i motivi che avevano origine nell'incisione che inondò l'Europa della seconda metà del cinquecento e inizio del secolo seguente. Nel momento di recuperare il preteso senso identitario del quale si impregnava l'ottocento fu proprio a questa eredità di protagonismo culturale del rinascimento a cui attinsero gli uomini usciti dal circolo intellettuale e di lavoro di Gonsalves. Nelle nuove costruzioni che garantivano la credibilità dei revivalismi a Quimbra dalla comittenza regia o di privati il neomanuelino assicurò agganciato al senso generale del paese questa dimensione nazionale che garantiva l'evocazione della gloria nazionale. A partire dall'esempio sofisticato del palazzo da pena a Sintra il palazzo hotel di Busaco vicino a Quimbra comincia come progetto di padiglione di caccia del re e termina come palazzo per la gente seguendo i parametri della cultura sociale dell'Ottocento i disegni dello senografo italiano Luigi Manini faranno dalla forma daranno forma alla struttura che fu il gran palco di sperimentazione della scuola di Scalpellini di Quimbra il cui segno maggiore e più attentico sarà il rifarsi al gusto della decorazione del Rinascimento il regno di Manuel oggi considerato dalla storiografia come il primo momento esplicito che in Portogallo incorpora la cultura umanista del Rinascimento fu anche con i contributi della pratica storiografica positivista e dei viaggiatori stranieri nel Portogallo dell'Ottocento il primo obiettivo di quelli artisti responsabili della ricostruzione di una presunta identità nazionale e soprattutto a partire dell'esperienza di Quimbra territorio in cui il resto evidente di quell'estetica che cercava l'equilibrio del mondo nell'ornamento sarà possibile il montaggio di una prospettiva neorenascimentale alla quale l'officina di Juan Mesado discípulo di Gonzalves diede corpo e sostanza per questo l'esperienza romantica a Busaco evocando al contento la torre di Beblain e il monastero di Geronimus darà un risulto tanto proficuo la convivenza tra una decorazione di radizze neo-medievale vegetalista perdoni scusi la convivenza tra una decorazione di radizze neo-medievale vegetalista carnosa e l'ornato di estrazione classica nel trattamento delicato della pietra trasformò il lavoro artistico dei secoli XIX e XX in modello di successo che sarà esportato verso altre zone del paese per esempio nella casa da Regalera proiettata dallo stesso Luigi Manini saranno gli scalpelini di Quimbra i responsabili della nota classicizzante insieme al delirio del neo-manuellino che dinamizza la casa più emblematica di Sintra come accade a Busaco la conciliazione abile con la natura ora domata legittima quella scenografia che serve gli interessi laici nell'evocazione dell'ipotetica anima del paese è interessante notare che il neo-manuellino fu soprattutto opera di stranieri molti scenografi così come fu uno stranieri a inventare nel 1842 lo stile manuellino a partire dalla sua opera sottomessa alla cultura positivista e classificatoria dell'Ottocento il manuellino venne catapultato a stile nazionale nell'interpretazione comune che legava il Portogallo alle imprese marittime solo a Quimbra ci furono le condizioni affinché la costruzione di un'alternativa all'esuberanza decorativa ispirata al periodo manuellino potesse dare i suoi frutti le potenzialità della pietra e i modelli disponibili nella città coniugata ad una mano di opera stimolata dalla responsabilità sul patrimonio e dalla conoscenza pratica nell'ambito del restauro degli edifici fessero in modo che si creasse una efficace rete di lavoro che conferiva prestigio al periodo rinascimentale attraverso la ricerca del senso decorativo della cultura umanista presente a Quimbra l'officina di João Machado creò una atmosfera erudita che si estesse all'abitazione privata e pubblica al cemiterio allo spazio religioso non già attraverso la consagrazione di una spazialità architettonica che si rifaceva al rinascimento bensì tramite il lavoro scultorio retabli freggi archivolti pilastri capitelli cornici diversi riempirono le strutture architettoniche e diedero corpo a una identità che ancora sopravvive a Quimbra anche con l'interferenza di nuovi materiali come il ferro segno di un incipiente processo di industrializzazione il profilo della città del rinascimento divenne più chiaro e alimentò una cultura storiografica che rimane intacta ancora oggi grazie grazie a Maria dell'Urde Scaravero anche perché ci ha fatto uscire un po' dall'ascetismo e dal rigorismo noi che eravamo abituati da tanto tempo alla gabbia pombalina alla baixa al chiado c'era finalmente abbiamo fatto un ripercorso articolato e complessissimo sull'architettura portoghese per cui grazie veramente la parola ad Olga Medvedkova grazie